Io prima di tutto sento la necessità di ringraziare, ringraziare il sindaco, ringraziare tutti i presenti ai quali va il mio ideale abbraccio affettuoso perché non ci aspettavamo una presenza così numerosa e per noi credo che sia per me e per Enzo la migliore gratificazione per il piccolo lavoro che abbiamo portato avanti. Ma io devo un ringraziamento speciale ai tanti parenti dei tanti protagonisti che sono citati nel libro. So che ci sono parenti di persone che hanno dato tanto per mesagne, per l'emancipazione del mondo del lavoro. Io dovrei citarli ma l'elenco sarebbe molto lungo e per evitare di dimenticarne qualcuno consentitemi di non fare questo. Però a questi parenti io veramente mi sento profondamente legato e capisco tutto il loro affetto verso queste persone per loro care che hanno lasciato un esempio che sicuramente vale per loro, vale per le loro famiglie ma vale anche per tutti noi, vale per questa comunità cittadina ma vale anche per una comunità più grande. Devo anche salutare ma lo posso fare solamente a distanza i parenti dei protagonisti citati che però non sono qui presenti e vi voglio richiamare la vostra attenzione su questo fatto. Vedete gli uomini che sono citati come protagonisti della storia in questo nostro piccolo lavoro sono a grande rischio, a rischio dell'oblio, della dimenticanza e il fatto che di alcuni non ci siano neppure i parenti più stretti è la dimostrazione che l'oblio può veramente cancellare tutto. Noi dobbiamo apporci con tutte le nostre energie a che questo non accada perché è veramente un venir meno alla necessità di dare il minimo riconoscimento a questi uomini che si sono battuti, che sono stati mandati in esilio, che hanno subito la prigionia, che sono andati incontro alla morte perché voglio ringraziare il sindaco per le cose che ha detto ma voglio anche affidare al sindaco un compito. Sindaco, nel libro sono citati alcuni atti amministrativi significativi che poi non hanno avuto compimento per esempio l'intitolazione di alcune strade ad alcuni combattenti della resistenza ci sono stati mesagnesi che hanno combattuto nella resistenza così come non è menzionato, il professore sconosciuto prima ricordava il monumento ai caduti che si trova al cimitero che fu inaugurato nel 21 e poi aggiornato con la seconda guerra mondiale e dalle verifiche che io e Enzo abbiamo potuto fare i caduti sono riportati tutti con l'eccezione di uno, uno solo non è citato e su quel marmo non c'è e io credo che sia una cosa che addolora molto è un militare mesagnese che è caduto in un campo di sterminio a Flossenberg un campo tristemente famoso anche perché lì è morto il fratello di Sandro Pertini è morto l'ammiraglio Canaris che a seguito dell'attentato al Führer del 20 luglio 1944 fu destinato alla morte in quel campo e lì ha perso la vita questo mesagnese che non è ricordato sul marmo che sta al cimitero solo perché era stato sottoposto a un processo ed era stato degradato io credo che per quanto colpa possa aver avuto quest'uomo il fatto che si sia immolato in un campo di sterminio caro sindaco, questa città non può dimenticarlo quel nome deve essere rimesso in quel posto è un dovere alla memoria di una persona che non può scomparire nell'oblio più totale perché veramente è l'oblio più totale le cose che sono state dette sono state tutte molto interessanti e quindi grazie a professor Liuzzi, grazie a Vittorio Stamerra grazie a professore sconosciuto io voglio dirvi solamente questo il lavoro che noi abbiamo fatto sostanzialmente voleva raggiungere tre obiettivi il primo era quello di ricostruire la storia della società di mutuo soccorso l'unione cooperativa dei lavoratori di mesagne questo era un omaggio che andava assolutamente reso prima di tutto a coloro che quell'organismo lo fondarono che per quell'organismo combatterono facendo battaglie sociali, economiche, politiche di grande spessore ma poi anche per rendere omaggio alla memoria di una persona che io ho conosciuto che ho apprezzato con il quale ho condiviso la mia militanza politica e anche la militanza amministrativa che è Paolo Bottazzo Paolo Bottazzo è stato presidente protempore dell'unione dei lavoratori nel 1982 nel 1982 ricorreva all'ottantesimo anniversario della fondazione del sodalizio e Paolo aveva come chiodo fisso una pubblicazione che rievocasse la storia della società di mutuo soccorso e anche per portare a compimento questa sua aspettativa il libro andava comunque scritto ma oltre a ricostruire la storia di questa società di mutuo soccorso è stato molto significativa per Mesagne significativa perché non è stata solo una società di mutuo soccorso è stato anche molto altro ancora perché è stato il luogo dove tanti mesagnesi hanno fatto il loro apprendistato politico si sono impegnati per andare oltre la mutualità, oltre l'assistenza quindi hanno aperto la loro mente, il loro orizzonte verso ideali molto più grandi perché l'assistenza merita tanta considerazione ma sapere che l'assistenza, la necessità di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori richiede che ci sia un impegno a livello politico questo lo possono fare solamente persone dotate di grande intelligenza e di grande sensibilità e quindi onore a loro ma non c'era solamente da fare la storia della società di mutuo soccorso l'unione dei lavoratori c'era da fare anche un'altra cosa vedete noi oggi viviamo in un'epoca di welfare e sapete la discussione e il dibattito molto acceso che c'è su questo tema bene prima del welfare ci sono state le società di mutuo soccorso che hanno costituito un salto di civiltà notevole noi non possiamo immaginare che cosa ha significato per la gente, per i lavoratori di fine ottocento, di inizio novecento costituire una società di mutuo soccorso significava avere la dignità, la consapevolezza che quando si verificano le disgrazie, le tragedie, le sciagure non bisogna andare a inchinarsi, a stendere la mano nei confronti degli altri che magari sprezzantemente ti giudicano e forse ti respingono bisogna costruire le basi perché le famiglie, le persone non vadano a finire in mezzo alla strada e allora mettersi insieme, autotassarsi, costituire un patrimonio sociale che serviva per le vedove, che serviva per l'assistenza medica che serviva in caso di malattia era sicuramente un salto della società che voleva significare avere una civiltà nuova e io credo che quelli che hanno pensato di fare questo meritano una grande considerazione perché vedete, forse farlo oggi sarebbe come sfondare una porta aperta ma quelli lo facevano in un mondo dove le uniche forme di assistenza che esistevano erano quelle della carità e della beneficenza prima delle società di mutuo soccorso c'era solamente la carità e la beneficenza dei benefattori, dei filantropi i quali molte volte le loro sostanze, diciamo così le loro ricchezze le lasciavano in dono perché fossero utilizzate per dare il corredo a una donzella come si diceva di buoni costumi perché si desse l'elemosina ai poveri nei giorni di particolare ricorrenza quali potevano essere il Natale o altre feste particolarmente significative ma molte delle loro sostanze le riservavano anche alla pietà personale cioè al fatto che bisognava dire tante messe al loro suffraggio e così via quindi come vedete la carità e la beneficenza era da un lato un po' pelosa e poi era, come devo dire, un dipendere dalla volontà altrui mentre le società di mutuo soccorso costituiscono indubbiamente un grande progresso e un grande avanzamento dei lavoratori la terza cosa che bisognava fare era ricostruire un panorama seppure molto sobrio, molto stringato dei tanti personaggi che si sono susseguiti dalla fine dell'Ottocento fino al 1950 circa che si sono impegnati in modo diverso anche con passione politica e civile diversa naturalmente per una sola causa però quella di emancipare il mondo del lavoro e lo ha fatto Chico Pignatelli lo ha fatto Bottazzo lo ha fatto Dall'Uisio lo ha fatto Emanuele Fagecchia un nome che saluto la signora che è qui presente la signora Iolanda che è la figlia di Emanuele Fagecchia un socialista che è rimasto nel cuore di generazioni mesagnesi per l'esemplarità della sua moralità per la limpidezza e la coerenza dell'impegno politico ma potremmo continuare con il maestro Vincenzo Volpe ma anche con Bruno Volpe che nel libro è citato per la sua coerenza politica con Pietro Stuni e con Angelo Greco e tanti altri vi chiedo scusa anche perché molti di questi io li ho conosciuti personalmente quindi sono anche emotivamente coinvolto nel rivaucare il loro nome noi volevamo che queste tre cose fossero chiarite attraverso questo nostro lavoro speriamo di averlo fatto in maniera almeno decente e perché l'oblio non calasse del tutto su queste figure sono quelli che hanno dato alla politica un significato di attività nobile ci si impegnava nella politica per il bene collettivo per cambiare la società e fargli fare un passo in avanti ed è tutta gente che non si è arricchita che ci ha rimesso a volte ha messo in ballo la propria famiglia pensate faccio un nome a Pietro Stune o a Cosimo Scollato che avevano famiglia e che il fascismo condannò al confino e con una famiglia sulle spalle da mantenere potete immaginare quale sacrificio quale sconcerto si introduceva nella vita quotidiana di queste persone ecco è un piccolo omaggio a tutti i costoro con l'impegno che forse questa politica vista come attività nobile possa ritornare superando questa fase sciagurata e disgraziata che il nostro paese sta attraversando e quindi è anche un'inizione di fiducia verso l'Italia perché non si abbandoni a quello che la realtà quotidiana ci passa per come è poi grazie a tutti è veramente un abbraccio ideale da parte mia a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti